I gnoffo ci avete provato in tutti i modi, eravate andati in vantaggio, poi però c'è stato questo gol che un po' ha spaccato la partita e l'ha anche innervosita. Però al di là di questo il Chieti ai punti sicuramente meritava qualcosa in più. Dei punti purtroppo non ce ne facciamo niente, siamo andati alla ricerca fortemente di questa vittoria e credo che i ragazzi abbiano fatto tutto quello che era necessario fare oggi per poter vincere la partita. Non ci siamo riusciti per vicissitudini che sono frutto degli episodi, dei gol sbagliati, dei gol subiti perché alla fine il calcio è questo. Però ai ragazzi ho detto solamente bravi perché il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto sotto l'aspetto della prestazione. Manca sicuramente qualche vittoria nelle ultime due partite in casa ma siamo all'inizio. A me interessava che questa squadra crescesse in maniera esponenziale e siamo a buon punto dopo la prestazione fatta oggi. Veramente sono soddisfatto per quello che i ragazzi hanno dato. Dobbiamo solamente voltare pagina perché già mercoledì abbiamo un'altra partita e dobbiamo cercare di ripetere questo tipo di prestazione a fermo per cercare poi di fare anche i tre punti. Il capitano Cosimo Froggione non poteva non esserci in questo derby però poi magari è uscito un po' affaticato nel secondo tempo. Così a naso sarà presente mercoledì? Ha ripreso una botta sul punto dove aveva male quindi mi ha chiesto esplicitamente chi continuava a fare male e quindi a quel punto l'ho tolto poi tra domani e dopodomani valuteremo se la sua presenza in campo sarà opportuna o meno in funzione anche della sua condizione. Abbiamo visto tutti il motivo per cui senza voler colpevorizzare il ragazzo del Teramo comunque si è un po' incattivita la partita. Lei della panchina che cosa ha visto in quei frangenti di 3-4 minuti in cui l'arbitro ha faticato parecchio per tenere gli animi un po' e placarli? Ha sicuramente avuto del bel da fare perché il ragazzo ha avuto questo momento di entusiasmo che ha manifestato con un gesto che non va affatto perché a mio avviso non gli rendono ora a quello che sono le qualità del calciatore e la mancanza di rispetto ovviamente a una città, una comunità fatta attraverso il dito dello zittiro un po' la gente è sicuramente cosa che fa male, che dà fastidio e ovviamente la reazione è stata immediata. La cosa importante è non aver preso gialli o espulsioni perché comunque in questi casi può succedere anche quello. i ragazzi sono stati bravi a manifestare la loro disapprovazione però allo stesso tempo a non coinvolgersi in maniera importante da avere reazioni spropositate. L'ultima in off in particolare secondo lei al di là delle occasioni avute sono state diverse però che cosa non ha funzionato l'ultimo passaggio, poca precisione lì davanti? Guarda, quando produci tanto e poi non riesci a concretizzare è ovvio che dobbiamo cercare di comunque sistemare la mira però ci abbiamo provato in tutte le maniere e ci sono anche degli episodi da rivedere e ci sono delle situazioni dove non siamo arrivati per un nulla, ci sono situazioni dove siamo stati respinti dai difensori quindi a me è piaciuto tantissimo il piglio che l'ha avuto la squadra sia il primo o il secondo tempo abbiamo finito la prestazione in crescendo con un'intensità importante e questo è un punto di partenza è ovvio che la cosa importante che asseconda poi quello che è la prestazione e valorizza ancora di più la prestazione sono i tre punti, oggi non sono arrivati però il percorso che stiamo affrontando è importante si fa interessante perché veder crescere la squadra di domenica in domenica è l'obiettivo che tutti quanti ci auspicavamo. Davvero l'ultima, due punti su due gare interne, insomma è poco, il cammino non è proprio ottimale avete perso anche il primato ma in questo momento della stagione poco vale, poco conta? Stare lassù sicuramente è motivo di avere questo tipo di piglio, di creare quella mentalità vincente però credo che l'obiettivo non sia di essere primi a ottobre ma cercare di arrivare alle prime posizioni a fine stagione quindi noi faremo quello che è necessario fare per poterlo raggiungere con l'insieme, col gruppo e con le prestazioni della squadra ma ancora credo che sia prematuro poter parlare di risultati che poi lasciano i vuoti o meno ma dobbiamo cercare di stare a fare un percorso regolare e che ci permetta di rimanere sempre agganciati nelle zone alte della classifica.